Un saluto a tutti, in questo video vi porto nuove anticipazioni di Terra Amara. Andiamo a scoprire insieme cosa succederà nelle puntate che vedremo in onda dal 19 al 23 giugno. Queste puntate vi lasceranno con il fiato sospeso. Zuleia, dopo essere stata trasferita in una clinica per motivi di salute, si trova nuovamente ad affrontare le insidie della vendetta orchestrata da Beice, la zia di Mosga. Determinata a infliggere un duro colpo alla nipote, Beice si infiltra nell'ospedale, travestita da infermiera, con l'intento di porre fine alla vita di Zuleia. La sua malvagia trama prevede l'iniezione di veleno nel corpo della giovane donna, sperando così di liberare Mosgan per consentirle di vivere appieno la sua storia di amore con Ilmaz. Fortunatamente Zuleia si accorge prontamente delle oscure intenzioni di Beice e riesce a fermarla in tempo, evitando il peggio. Grazie alla sua prontezza d'azione, Zuleia si salva e riesce a sventare i pericoli della cerima nemica. Costretta ad arrendersi, Beice non ha altra scelta che fuggire dalla clinica, cercano di evitare conseguenze legali. Ma gli avvenimenti avvincenti e le sorprese non si fermano qui. Nelle prossime puntate, Zuleia viene finalmente dimessa dall'ospedale, dopo diverse settimane di attenta osservazione. Torna finalmente a casa, dove può riabbracciare le persone care e soprattutto i suoi amati figli. Tuttavia, il suo ritorno nella quotidianità è segnato da un nuovo pericolo, che mette a rischio la sua stessa esistenza. Mosgan, armata di una pistola, si scontra contro Zuleia, la sua nemesi. Determinata e spietata, Mosgan ha un obiettivo ben preciso, eliminare Zuleia. Non esita a sparare, ma al destino del proiettile rimane avvolto nel mistero, almeno per questa settimana di anticipazioni. Ecco terminate le anticipazioni della prossima settimana. Scrivetemi nei commenti cosa ne pensate e se il video è stato di vostro gradimento, vi invito a lasciarmi un mi piace e di iscrivervi al canale, per non perdervi le future anticipazioni di questa SOP. A presto, ciao! Ciao!